amiche amici del Cornel Sampdoriano bentornati edizione straordinaria dei contenuti sul nostro canale YouTube ma la notizia ormai la sapete bisognava approfondire questa novità così debotto senza senso la Sampdoria cambia guida tecnica esonerato da Versa torna Marco Giampaolo così debotto senza senso per citare un tormentone social eh ripreso dalla nota serie tv Boris dunque debotto abbastanza nel senso che arriva non totalmente imprevista ma un pochino improvvisa sì c'erano stati altri momenti in cui ci saremmo aspettati durante la stagione che Roberto da Versa venisse sollevato dall'incarico invece succede ora dopo le tre sconfitte collezionate nel duemila e ventidue senza senso boh non lo so insomma un un fondo di di senso ce l'ha questa scelta ovviamente per giudicarla dobbiamo anche valutare chi arriva a sostituire da Versa e cioè Marco Giampaolo un personaggio che conosciamo già molto bene Roberto da Versa quindi saluta la compagnia aveva iniziato il quattro luglio e quindi il suo percorso che è stato un po' una gita sulle montagne russe in blu cerchiato già era iniziato molto tardi se vi ricordate il casting per il nuovo allenatore passò attraverso un sacco di nomi e ci fu un po' l'impressione che da Versa era l'ultima scelta sicuramente non la prima vennero sondati vi ricorderete Zanetti Dionisi tra gli altri insomma ehm anche già in estate il ritorno di Gianpaolo poi da Versa aveva iniziato con grande grinta e grande personalità la sua avventura alla Sampdoria e a settembre con il picco della vittoria ad Empoli che se ci ripensiamo ora fa un po' specie visto il campionato che sta facendo la squadra di Andrea Zoli aveva dato discrete sensazioni poi però qualche gol preso di troppo un atteggiamento troppo spregiudicato soprattutto nelle partite contro squadre nettamente più forti anche se in realtà le migliori di da Versa sono state quella probabilmente all'esordio contro il Milan sconfitta di misura e non meritata e anche il pari con l'Inter che poteva finire diversamente ma in un senso e nell'altro quindi lì c'erano state buone sensazioni meno ovviamente nella gara persa largamente col Napoli in casa dopo dove quel atteggiamento era parso forse un po' col seno di poi abbastanza suicida anche a Torino così così primo bivio della stagione il post San Pudinese 3 a 3 lì per la prima volta da Versa venne delegittimato in modo in un modo che poi fu pubblico perché la notizia uscì durante la direzione di un allenamento a Bogliasco venne convocato a Milano dalla presidenza dell'epoca per ridiscutere evidentemente qualcosa di di tecnico insomma qualcosa che a livello di conduzione tecnica non andava alla presidenza dell'epoca poi tutti ci saremmo aspettati l'esonero dopo la sconfitta contro il Bologna che arrivava dopo anche quella dell'andata contro il Torino che è stata una delle sconfitte qui una delle colpe principali di della Samp di D'Aversa perdere delle partite in modo veramente al limite dello sconcertante con prestazioni senza capo né coda senza organizzazione né grinta né voglia quindi veramente era una squadra con l'elettro encefalogramma piatto. Questo tipo di sconfitte anche con avversari contro cui ci sta a perdere sono arrivate anche contro Fiorentina e Lazio anche lì prestazioni sconcertanti con risultati con partite contro avversari in cui ci sta a perdere. Poi però secondo turning point è lì se non l'unico uno dei pochi meriti di D'Aversa cioè di aver raddrizzato la barca e anche la stagione questo è un merito che rimarrà mi auguro in senso positivo per tutto il resto dell'annata 2021-22 perché aver vinto il derby dopo che per la seconda volta D'Aversa era stato delegittimato da Ferrero che nel veniva arrestato proprio mentre parole sue si stava recando a Milano per comprare Dejan Stankovic. Quindi D'Aversa da virtualmente esonerato è riuscito a rialzare la testa a farla rialzare la squadra con la migliore prestazione della nata nettamente in una partita che quindi ha permesso di vivere un dicembre più tranquillo sul campo che si è chiuso con i pareggi contro Venezia e Roma tutto sommato soddisfacenti visto anche e non dimentichiamocelo le assenze con cui ha avuto ha dovuto via via avere a che fare il tecnico abruzzese nato in Germania senza che hanno pesato tantissimo nelle tre sconfitte contro Cagliari Napoli e Torino ma non possono essere l'unica scusante quindi è arrivato l'esonero la prima decisione forte della nuova società e che decisione e dicevamo arriva Marco Giampaolo torna Marco Giampaolo che si diceva in estate non aveva non avesse ricevuto sufficiente garanzie sufficienti garanzie tecniche per tornare alla guida della Sampdoria quindi la domanda è ora subentra in una situazione che non è disperata ma non è rosea è una squadra in palese difficoltà con una classifica appena appena diciamo in linea di galleggiamento ma con il baratro che inizia a essere un pochino all'orizzonte e che soprattutto un orizzonte che oltre alla partita di Coppa Italia che al momento faccio fatica a prendere sul serio perdonatemi vede invece lo sconto diretto con lo Spezia che rischia di essere un crocevia determinante l'abbiamo già detto quindi che garanzia avrà ricevuto Marco Giampaolo da questa nuova dirigenza che io in mattinata quando iniziavano a circolare le voci di impossibile esonero leggevo che questa società al momento non può offrire più dei sei mesi di contratto a un eventuale nuovo allenatore è stato raggiunto pare questo compromesso dei sei mesi per Giampaolo con opzione di un biennale automatico che scatta in caso di salvezza una piccola nota di ottimismo può arrivare da questo ragionamento e cioè forse Giampaolo ha ricevuto un certo tipo di rassicurazioni che evidentemente trascendono l'aspetto campo e il brevissimo termine e magari c'è qualcosa di più all'orizzonte sul medio periodo però questa è una mia supposizione con una botta di ottimismo che non ha fondamento è solo un augurio ecco diciamo così detto questo si riapre il gigantesco tema Giampaolo sì Giampaolo no ci siamo passati più volte Giampaolo nei suoi tre anni in blu cerchiato ha lasciato sentimenti contrastanti ha lasciato una tifoseria su questo tema molto divisa e fatemelo dire subito questo in questo momento è l'ultima cosa di cui la Sandorio ha bisogno ma so che la tifoseria blu cerchiata sarà matura il giusto per compattarsi attorno alla squadra indipendentemente dalla sua opinione in merito al tecnico nato a Bellinzona che appunto ha un sacco di estimatori per i suoi tre anni in blu cerchiato io sono tra questi perché i picchi estetici di organizzazione di identità di gioco offensivo raggiunti in quei tre anni raramente li ho visti alla Sampdoria che ho visto io che ho avuto la fortuna di vedere io nella mia vita i detrattori hanno un sacco di argomenti assolutamente validi e cioè il fatto che fosse una squadra spesso prevedibile che spesso sbracava un po' ci ricordiamo delle sconfitte pesanti usciva facilmente dalle partite aveva questi cali soprattutto nella seconda nelle seconde parti delle stagioni quando ormai non c'erano più obiettivi concreti da raggiungere all'orizzonte c'è poi tutto il tema che riguarda Giampaolo sul fatto che i suoi estimatori dicono che sia stato bravo a valorizzare giocatori Pratt per dirne uno che abbiamo visto recentemente ma i vari muri è il Schick, Skriniar e quindi io mi metto tra questi cioè è stato un merito quello di Giampaolo di sgrezzarli e metterli in un contesto per permettergli di esprimersi al meglio e poi spiccare il volo c'è anche chi dice invece che Giampaolo ha fatto poco con il materiale che di fatto aveva a disposizione detto questo se la domanda è sei contento che sia tornato Giampaolo alla Sampdoria sono molto diviso perché ovvio che ottime sensazioni per i ricordi che personalmente ho io ma è tutto da decifrare che sia la condizione il contesto e l'ambiente giusto per farlo per far esprimere al meglio l'ex allenatore di Toro e Milan e a proposito un altro elemento a sfavore di questa scelta è il background o meglio le esperienze che ha collezionato Marco Giampaolo dopo essere andato via dalla Sampdoria cioè dopo aver cercato di fare il salto di qualità scelta legittima che io ho rispettato totalmente perché ci sta che dopo tre anni chiudi un ciclo anche perché non aveva diciamo spiragli di fare il salto di qualità con la Sampdoria ha provato a farlo al Milan piazza in cui è difficile perché non hai tempo per far apprendere gli automatismi ai tuoi giocatori o il tempo te lo devi guadagnare con i risultati e i risultati Giampaolo al Milan non li stava collezionando e curiosamente è stato esonerato dopo una vittoria proprio a Genova contro il Genoa e in questo caso di tempo non ne avrà e quindi questo è il grosso dubbio che ci attanaglia mi attanaglia tra l'altro è è a ulteriore riprova di questo fatto è un allenatore che quasi mai è subentrato in carriera spesso abbiamo sentito lo abbiamo sentito accostato alle panchine libere in questo periodo ultima credo quello del quella dell'udinese qualche settimana fa però il messaggio che passava è Giampaolo non è un allenatore giusto per subentrare in corsa l'unica volta che lo ha fatto in carriera al netto dei due subentri a Cagliari e Catania occasioni in cui però lui aveva iniziato la stagione era stato esonerato e poi era stato richiamato quindi non valgono esattamente come subentri a stagione in corso era stato a Cremona lì invece era subentrato a novembre in serie B alla Cremonese ed è stata un po' l'occasione che lo ha rilanciato perché lì lo aveva visto l'Empoli per prenderlo poi nella stagione 15 16 il resto della storia lo conosciamo tra l'altro a Cremona lui aveva usato il 3 5 2 e andando così a curiosare su Transfermarkt sulla pagina di Marco Giampaolo c'è scritto che in carriera il modulo che ha usato più spesso è stato il 3 5 2 a me sembra strano perché evidentemente ha il mantra della difesa a quattro al netto di quell'esperienza a Cremona e della seconda parte di quella a Torino la sua ultima in Granata all'anno scorso dove evidentemente aveva capito che il suo 4 3 1 2 non attecchiva non c'erano i giocatori giusti e soprattutto c'erano dei giocatori abituati a giocare a tre da da anni da tempo in memore da Ventura a Mazzardi a Mijailovic eccetera eccetera e il modulo arriviamo al discorso del modulo sarà un grosso tema se arriverà rifarà quel 4 3 1 2 che abbiamo imparato a memoria nelle sue 123 panchine tra tutte le competizioni in blu cerchiato in quel caso sarà da ci sarà da contestualizzare un paio di personaggi mica da ridere il primo nome che mi viene in mente Antonio Candreva che è il miglior giocatore di questa Sampdoria per rendimento dati alla mano dopo il girone d'andata anche se nel 2022 è rientrato con forma diciamo interlocutoria e ci ha messo pure l'espulsione evitabile contro il Cagliari nel 4 3 1 2 faccio molta fatica a vederlo perché non è un trequartista e soprattutto non lo vedo trequartista in un sistema così inquadrato e con compiti precisi come quello di Marco Giampaolo nonostante l'uno dietro ai due sia teoricamente il contesto il luogo per l'espressione dell'istinto del talento dell'improvvisazione nel modulo di Giampaolo anche il trequartista dei compiti precisi Candreva in realtà in carriera ha fatto la mezzala però in questo sistema non ce lo vedrei perché se vi ricordate il 4 3 1 2 di Marco Giampaolo è un sistema di gioco è strutturato in modo molto stretto molto molto compatto sono tutti messi sostanzialmente sulla linea della porta in avanti e quindi le mezzali sono spesso anzi sempre costrette a farsi tanti chilometri in orizzontale quando la Sampdoria non ha il pallone perché le avversarie della Samp ve le ricorderete tendono a fare questo cambio di campo continuo per trovare la superiorità numerica cercando di approfittare delle scalate eventuali lente da parte delle nostre mezzali Linetti Barreto Prato vi ricorderete che erano costantemente obbligati a farsi chilometri in orizzontale per andare a coprire sui terzini avversari che scendevano e questo Candreva sinceramente non ce lo vedo a farlo potrebbe cambiare modulo e fare il 4 3 2 1 in quel caso Candreva nei due dietro alla punta già lo vedrei un po' più a suo agio detto che l'uno dietro i due attaccanti lo potrebbe fare Valerio Verre che pure con Giampaolo molto poco ci ha già giocato alla Samp potrebbe farlo Michel Damsgaard che più o meno lì ha giocato e si è espresso alla grande con la Danimarca agli europei forse lo può fare anche Manolo Gabbiadini che ha il vantaggio di aver già giocato con Giampaolo negli ultimi sei mesi del tecnico nato in Svizzera da gennaio a maggio del 2019 ci sono dei giocatori che già Giampaolo ha allenato in blu cerchiato ovviamente Albin Echdal che da regista in mezzo alle due mezzali si è espresso nella sua migliore versione in blu cerchiato quando gioca in un centrocampo a due deve coprire più metri e quindi perde un po' di lucidità nella sua regia che invece nel 4-3-1-2 io me la ricordo molto molto pulita impeccabile lì abbiamo visto la versione migliore di Albin Echdal ha già avuto Colle ha già avuto Berecensky non vedo problemi per il collocamento nella difesa a quattro ci sarà da lavorare un po' sulla linea con Yoshida e Augello sui movimenti che fatalmente con Giampaolo sono orientati agli spostamenti del pallone scuola Sarri e quindi sarà una linea che dovrà essere educata a muoversi molto molto di reparto con D'Aversa invece si lavorava molto di più sull'uomo abbiamo spesso visto eh mi viene l'ultima l'ultima occasione Dragusin seguire Pratt fino nel metacampo opposta questa è una cosa che teoricamente con Giampaolo non vedremo la linea non si rompe quasi mai con eh la la difesa a quattro di Marco Giampaolo un altro dubbio che mi viene Torsby che non è detto che pensando se pensiamo al calcio palleggiato di possesso di Marco Giampaolo lo potremmo vedere un po' un pesce fuor d'acqua vero ma è anche vero che è un discorso che poteva valere anche per Edgar Barretto che invece giocatore intelligente ci metteva fisicità ci metteva eh essenzialità nel senso che faceva passaggi molto corti toccava il pallone poco lo portava poco e quindi finiva spesso per essere funzionale in quel sistema Torsby potrebbe fare una cosa simile mettendoci ovviamente l'aggressione il pressing di cui lo sappiamo eh capace speranze forse anche per Quagliarella che potrebbe ritrovare i fasti eh della sua migliore stagione a livello realizzativo curiosità anche per Rincon che in questo modulo può fare sia il mediano basso sia la mezzala di possesso anche se effettivamente mezzali di qualità forse non ne abbiamo non abbiamo quelle del livello Linetti Pratt per intenderci dei bei tempi da vedere curiosità ottimismo quello sempre aspetto i vostri commenti qui sotto e vi ringrazio per essere arrivati fin qui questo video lunghissimo grazie a tutti